Si fa un gioco di squadre, si riesce anche a dare un messaggio a tanti giovani, perché oggi i giovani hanno bisogno di punti di riferimento, hanno bisogno di esempi, hanno bisogno più di testimonianza che di parole. E quindi questo evento potrebbe essere, sicuramente è importante proprio per dare un messaggio positivo a tanti giovani e se viene qui dal carcere dove c'è tanta sofferenza, tanto male, dove ognuno dei detenuti ha fatto esperienza del male, può dare un messaggio positivo a tanti giovani e tanti ragazzi.